Don Giosuè e Lombardo fervono i preparativi per l'organizzazione della terza edizione della Notte Sacra nel segno di San Vincenzo Romano. E questa edizione coincide con i cinque anni dalla canonizzazione di San Vincenzo. Conviene qui fare memoria anche della pausa dei due anni dovuti alla pandemia. È tutto un fervore del quale io sono particolarmente lieto e contento perché coinvolge tanti giovani la parte bella, creativa, culturale e anche motivata spiritualmente della nostra città. Saranno aperte tutte le parrocchie e le chiese del centro innanzitutto per momenti di riflessione, di preghiera, di catechesi, di adorazione, di confessione. Ecco perché Notte Sacra. E poi accanto a tutti questi eventi sacri che culmineranno nell'incontro in piazza qui alle 22.30 con il vescovo ausiliare, con tutti i parroci, i sacerdoti della città e delle comunità ecclesiali che ci ritroveremo in preghiera intorno alle reliquie di San Vincenzo Romano. Accanto a questo ci sono poi tanti eventi culturali, concerti, visite a mostre alla Casa di San Vincenzo, alle Grotte di Santa Croce, ai sotterranei di San Michele, a Santa Maria del Principio, all'Assunta. Sono delle occasioni quasi uniche. Ecco è una città in cammino e il centro storico sarà in movimento, in cammino, motivato intorno a San Vincenzo Romano. Da questi due giorni può ripartire quel progetto di turismo religioso? Speriamo e dico speriamo ma con un grande senso del realismo perché per ripartire tra virgolette innanzitutto dal turismo penso che la piazza e il centro storico debbano diventare accoglienti per quanto riguarda un flusso turistico. Se voi vedete le condizioni in cui è la piazza e le condizioni in cui versa il centro storico, io metto in crisi questo aspetto del turismo perché quando noi andiamo in una città turistica la prima cosa che guardiamo e ci attendiamo è la vivibilità. Quello religioso è un'altra cosa perché qui vengono i pellegrini, vengono le parrocchie, vengono anche tanti presbiteri delle diocesi vicine vengono per momenti di preghiera, di riflessioni intorno al santo, però questa è un'altra cosa è un'altra cosa e anche per loro faccio molta difficoltà a fare un'accoglienza degna per cui io sono disponibile ma ognuno deve fare la propria parte. Ciro Langella in rappresentanza del comitato promotore della Notte Sacra nel segno di San Vincenzo Romano due giorni di eventi, qual è il programma? Il programma innanzitutto è molto fitto ed è all'insegna della partecipazione massima di tantissime realtà dei commercianti, delle imprese, dei cittadini e ci tengo ad aggiungere anche delle scuole perché abbiamo avuto una partecipazione davvero importante di quasi tutte le scuole cittadine che renderanno questa manifestazione intorno al santo ancora più interessante e ancora più sentita perché parteciperanno i giovani e parteciperanno attivamente. In che modo parteciperanno le scuole e i giovani? Che cosa avete previsto? Certo, ci saranno dei reading, ci saranno delle sfilate, ci saranno dei momenti di interazione col pubblico e i giovani delle scuole parteciperanno anche all'accoglienza nei vari siti culturali che saranno aperti perché poi tengo a ricordare che quella sera saranno aperti in contemporanea tutti i siti storici, culturali ed artistici del centro cittadino. Intorno al santo si muove tutta la manifestazione e quindi il San Vincenzo Romano ci dà l'opportunità di parlare della città attraverso l'arte, attraverso la storia, attraverso la cultura e le tante espressioni che questa città offre. E di farlo conoscere innanzitutto ai giovani di Torre del Greco ma anche oltre i confini locali. Assolutamente, quello è uno degli obiettivi che ci proponiamo in questa terza edizione della Notte Sacra è proprio quello di iniziare a portare la Notte Sacra e tutto quello che si muove intorno al di fuori dei confini della nostra città e quindi rendere Torre del Greco e la figura di San Vincenzo Romano un attrattore culturale anche per i flussi turistici di matrice religiosa.